Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti sul canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Ghostbusters Video Game, versione rimasterizzata. Siamo riusciti ad avvicinarci all'omino del Marshmallow, però abbiamo capito che è interessato a qualcosa che sta praticamente all'ultimo piano. E ci dobbiamo arrivare naturalmente prima di lui, perché ancora abbiamo capito di che cavolo si tratta. Naturalmente qua è stato il video, qua è stato un super commento, un bel mi piace. Eh sì, c'è la porta tipo, non riesco a staccare la porta, c'ho questa porta che mi dà fastidio, ok. Esplora l'edificio, va bene, c'è la porta che ci seguiva. Io non credo che sia una buona idea andare di qua, eh. Interagisce? Ah, ok, va bene. Non avevo capito che era dell'acqua, eh. Allora, qua se... A parte cadere roba, poi non capisco niente, è di gravità, eh. Interagisce? Equipaggio e elevatore, ah, ok. Sì, ho visto, ho visto qualcosa ma non ho capito se è qualcosa che si muoveva o... Ah, tipo non devo buttare... Allora, là c'è una cosa che si illumina. Ok, penso che ci siamo, eh. Dove che cavolo stai? Ma sta qua in alto. Oh, porca di quella paletta, porca. Eh, ho capito, ho capito, ho capito. Mamma, come sono incacchiati. Ok. Oh, ce n'è ancora una... Che equipaggio, aspetta. Non possiamo ancora equipaggiare. C'è qualcuno che ci lancia qualcuno. È bravo, è bravo. Ti vedo in difficoltà, eh. Oh, miseria. Ecco, mi sa che sei morto, eh. Gli anime andiamo. Che bella questa cosa. Io... Io ammazzo te. Sì, se andate verso... Mamma, e quanti ne tieni addosso? Ti vedo in difficoltà esagerata, ragazzo. Eh, dai. Ok. Che facciamo, ce ne andiamo di qua? Capite? Non lo so, eh. Interagisce, andiamo. Porca paletta, porca paletta. Ma sempre di qua, andate, ma... Aspetta. Ancora ce ne stanno? No, soffri... Ah, ne arriviamo altro, porca lontanissimo, eh. No, è rimasto blocchiato. Ok. Ci siamo, eh? Sì. Oh, che cavolo. Oh, che cavolo. Oh, lo sa qua dentro, eh, mo? No. No. Se me dobbiamo fare prima noi, prima... Oh, capa paletta. Oh, signora, secondo me è morta, eh. Io lo dico così, ma... Giusto per... Aschiavolo. Sì, infatti non la vedo più la signora. È scomparsa, credo, eh. Wow, check it out, kid. What a view, huh? Ma che facciamo? Da qua, dici? Non si passa di qua. Andiamo? Ui, ragazzi, ciao. Ah, la signora è viva ancora. Sì, ok, signora. Signora sta morendo, hai avuto un infarto. Che dici? Che dici? Che dici? Ah, facciamo andare avanti. Sì, andiamo. Andà, vai. Che posizione che avete a... Che ingresso. Fuggi dall'edificio, vai. Andiamo? Porca paletta, va. Ma quasi, sembrava quasi che voi lo sapeste già, eh, vi dico la verità. Ci avete fatto fare una rampa di scale così inutilmente. Mi è cauto un mattone in testa, eh, te lo dico così, per sfizio. Ok. Siamo al trentaquattresimo piano. Anche ora. Ciao, 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 Sully. Quanto è alto? Capito. E siamo a trentacinque. Allora, la signora è rimasta giù? La lasciamo giù, la signora. Ah, no. Ah, scappa la signora. Non c'è un po' d'affanno? Ok, penso... Troviamo una via d'uscita. No, io vi ho visto una scala, vi dico la verità. Che c'è? Ok, ok. Uh, uh, uh. Allora, prestiamo attenzione. Era morto quasi, no? Aspetta. Colpisci, mi... Uh, c'è qualcuno che sta morendo, eh. Dove nemmeno lo stanno? Dove stai? Stai qua. Sì, è andato un po' in escandescenza, vai. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo a dare una mano a... Aia. Ma che fate via del chiambo? Stai qua, stai qua, vedi? L'ho beccato, l'ho beccato. Zitto, zitto, zitto. Uno è andato, vai. Stai qua, non lo riesco a becchiare. Se te ne fosse... Entra, entra, entra. Oh, si vede che l'abbiamo potenziato il coso, avete visto? Molto meglio. Meglio che ci raffreddiamo, andiamo. Chi è che sta la strada? Attenzione, attenzione. Che sono, una sorta tipo di pompieri. Vediamo se lo riusciamo a fregare. Oh, si sono in casa... Ah no, se ne rientrano da qua adesso. Ci sta questo che sta qua, che sta... Si sta... Non lo so, non lo so, non lo so. Non è una buona tattica questa, vai. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, l'ho beccato, l'ho beccato. Tira la trappola e andiamo. Sta qua, sta qua. Entra, entra. E' uno. Ok, è quasi morto, è quasi morto. Oh, oh. L'ho beccato, l'ho beccato. Di qua. Perfetto. Perfetto. E trova una via d'uscita, pure prima avevamo trovato la via d'uscita, ma... Ah, forse ci buttiamo qua... Che facciamo, ci buttiamo qua dentro? Forse ci buttiamo qua. E' uno. E' una via d'uscita. E' uno. 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 Poi, non è riuscito. Rai, dicono che tre ragazzi, con la size di un'altra mano, ti ha fatto da parte di un'altra 30 storia e ti ha dovuto scendere all'inizio per farlo. Ma come te sarebbe di essere con quei tre tanti tanti? Io vissi con un po' di piste. Ok, e colo in un'escalante di un'escalante. E' un'escalante blu e bambino o qualcosa di bambino è ancora venuto. È scendere il bambino. I'm impressed with his agility considering his complete lack of bones Good news, we've got the super slammer back on pulse and Ecto-1 is rolling We're repositioning now. Can you hold the stay puff there for a few minutes? If by few you mean less than one, then sure, we can do that Hey, did somebody tell you it was break time? No sweat, kid. We've got you Well, as long as you're down there, would you see if you could knock off Mr.Sweetness? Dovete in difficoltà? Sì, ma tenetemi abbastanza stretto però Oh boy, melt them, chief! Give them full screen! It's wrong, Ricky. Your health insurance doesn't begin for another 89 days Devo stare attento perché hanno improvviso questo... Ah, c'è anche l'aligo dissolente Questa quanti... Questo si... Oh, for... Ok, devo stare attento... Oh, ha chiamato quella cavalleria qua Quanti ce ne stanno di qui? Eh, però sta arrivando, eh, raga... Eh, tipo... Non lo so... Ah, meno male, meno male, meno male What do you think? Ritornato giù, eh? Devo stare attento alla roba che mi lancia, praticamente Vedo un po' incacchiato, però, eh No, no, si sta raffreddando le mani, eh Vediamo se lo riesco a becchiare Arrivano gli amici, arrivano... Ok È quasi andato, forse, forse... Non ci lancia qualche altra cosa presso Ce la dovrei fare Ok, ok Oh, mamma Questo continua a salire Occhio che arrivano, occhio che arrivano No, no, continua a salire, continua a salire Oh, ciao Forse... Ok Che è sto coso? È frittatina, ragazzi, frittatina Capture Stay Puddle Where is he? È l'acqua blanda che stai passando? Timing's off by just a hair, Egon But we're glad the trap is working again Eh, tipo... Togliate mi fuori... Mi sta facendo stare la tre ore qua, su... I guess I owe you guys my life She's clean How do you feel? It's Ray, Winston, and you met him Uh-huh The Ghostbusters Have you ever been involved in this type of quantum temporal rift event before? A quantum what? It's called arcing, a large pulse of psychic energy Actually, yes I was at the museum A pulse of blue light surged through the building And then I was standing outside a room on the 13th floor of an old hotel The Sedgwick The Sedgwick doesn't have a 13th floor It was pulling me like a magnet I felt as though I was in a deep dream I came to and ran over here Here? It's a temporary office while I'm in town I came to do some research after I woke up We'd like you to come to our lab so we can run some brief tests and ask you more questions Here's an easy one Would you like to go out for Thai? Mexican? Japanese? Wow, Dr. Vankton That time you almost went 45 seconds without saying something abrasive Want to try for a whole minute next time? A doctor and a fiery one too Charming, so charming E basta Parliamo con la dottoressa, dai Dove sta? Ah, che di qua Ah, si è già seduta la dottoressa So you know so much about Gozer because Because I'm a specialist in ancient Mesopotamian cultures and architecture Sumerian primarily Gozerian more specifically I'm here as a guest curator for the Gozerian exhibit that's opening tomorrow at the Natural History Museum You are aware that we also have some history with Gozer Yes, of course Gozer was a bush leaguer before he met us A strictly farm team deity We put him on the map But our getting stiffed on invites to opening night Just an oversight, right? I don't have anything to do with that I don't have anything to do with that That gentleman was all me And I can assure you it was not an oversight Oh, by the way, you have visitors Thanks, Janine Your first-class lookout Walter Peck I did not recognize you without the mayor's backside attached to your nose Okay, everybody put them back in their skivvies Apologies Dr. Selwyn, are you all right? I think so But I'm worried about the exhibit Are you kidding? You can't buy publicity like this The guest curator of the Gozer exhibit The expert Peck recommended Is attacked the night before the opening by Gozer himself Please tell me that was Gozer Gozer manifested in a familiar form One he had used before The Stay Puft Marshmallow Man But this event was weaker than his first encounter with us Ha! That's all I need, thanks Come on, Jock What's the idea of bringing Plack around here? Oh, have I coughed at the wrong time? Listen, here's the deal You and Peck and all you guys are going to work together What? No way, no how Impossible Look, this city has given you at least a dozen contracts For the jails, courthouses, and wharves You guys want to grow your business Get some county and state work, too I'm all for it You've been big supporters And great for my campaign Well, some have said our endorsement is what got you elected But not out loud Anyway, after all the damage you've been causing lately The city council wants you under close supervision For a period of no less than six months We file reports on time There's no need for extra supervision Ha 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 Funny guy, Bankman You've always been my favorite Well, that's why your old friend Peck comes in He's annoying A stickler for the rules In other words The perfect Peck for the job He's our new head of Peacock Peacock? PCOC Paranormal Contracts Oversight Commission And my first official act is going to be suspending you clown's operating license Lighten up, Peck Launch your investigation if you have to But for now just keep them under control and my office in the loop But remember, if the Ghostbusters cease to exist, so does your job So you need each other Beautiful in an ironic, symmetrical kind of way, isn't it? Hey, Mulligan, come on It's Mayor Mulligan to you, Bankman So, we have an understanding? This kind of protects us all You want more government business I want to keep my approval rating And Peck wants his little fiefdom You play by the rules Easy We all get what we want And the city council gets what they need Ok, big night tomorrow, Alyssa Get some rest So Now that we're all friends Can we get invites to the museum opening? Not likely But I'll be seeing you soon You can count on that But even this, how does it walk? Why does it walk like this? They look exactly like the kind of guy who'd accidentally walk into the stream of a bosun I'm just saying, it could happen Telefono squilla, eh? When we're ready, we have to interact Ok, let's start Ray and I have been talking And we think we should have a look at the museum Whatever happened tonight, it started there Ok, I'll take one for the team Stay with Alyssa You guys go with Winston and the recruit I'll be your personal protection What about Peck? He's supposed to be informed of everything we do What he doesn't know can't hurt us Hey guys, you need to make a detour Something big is going down It's on 1010 Winds now Tune it in And another ghostly sighting has staff at the New York Public Library Scrambling for answers The Grey Lady Let's get her for real this time Go! The wall The wall The wall What about the museum? It's been there for 104 years Where's it gonna go today? Um This thing you guys have for the Grey Lady Board is on the wheel You know that, right? She made us look like schmucks Not this time Oh, and another thing Pat called That says that I'm required to tell him where you are And what you are up to Tell him he can meet us at the museum We'll be there Eventually We'll be there Speriamo che sia gestibile la situazione Comunque avete visto, guarda qui Dai, la grafica ha migliorato tantissimo Non so dove dovevano andare Guarda quanta gente Oh, Colombi Oh, mannaccia Volevo Mi volevo sparare un po' di Ah, non ci fanno entrare Esamina la biblioteca Forse qualcosa No Ah, dobbiamo esaminare da qua, dici? Oh, porca di quella paletta Wow Double full torso animators Come on After them You hurt stance, let's move Dove dove? Non li vedo Ah, di qua Ok Vabbè, la mara che c'hai Scusami, non l'ho fatto apposta eh Dove ca... Uuuuuh Mamma mia, sono velocissimi That one's a beast Ray Let's chase him down Winston, check that next door Allora, and see if he has any friends Leave a haunted room I've got no problem with that Hey cadet To use the shock blaster It's best to get in fairly close Its effects are powerful But dissipate quickly over distance And please be careful It's a prototype We're trusting you with it The stasis stream will temporarily slow down paranormal If you train the stream on the target long enough You can actually stop it entirely This is how you use it Ah, vedi Ah, vedi Premi per viaggiarti L'assassus Che ho uno d'urto Ah, vedi Ok Che ho uno d'urto Ah, ma ogni volta lo devo mettere Uh, che sciogliata Che figata Quindi abbiamo una nuova arma Vabbè, dobbiamo trovare il nuovo fantasma Io penso che questa parte la terminiamo qui, eh Poi vedremo naturalmente più avanti che cosa fare Vediamo se possiamo anche acquistare qualcosa Ma non credo che qualcosa costava sicuramente Ah, e invece no Applicatore di questo Lo possiamo acquistare Aumentare il tasso di immobilizzazione Eh, sì A questo punto ce lo acquistiamo In maniera tale che siamo anche più potenti Ci vediamo al prossimo video Bye Ciao